Fauna selvatica a Fiumicino, un caso di peste suina africana è stato accertato nel comune. I consiglieri di opposizione tornano a chiedere una commissione urgente, con particolare riferimento a daini e cinghiali. Il problema non è più rimandabile. Da un'indagine che con altri consiglieri abbiamo condotto, una ricerca che abbiamo fatto internamente, sappiamo che c'è un caso di peste suina sul nostro territorio, che è stato accertato quest'estate. Non sono voci di corritorio, ma abbiamo degli atti che denunciano questa fattispecie. Quindi noi vogliamo sapere in una commissione Ambiente e Agricoltura cosa sta accadendo, quali sono le precauzioni che sono state messe in campo, qual è il censimento e l'iter che è stato prodotto per mitigare questa situazione. Non c'è nessun avviso pubblico che comunica quanto stiamo dicendo, quindi del caso di peste suina, e non è stato comunicato nemmeno ai consiglieri presenti nella commissione Ambiente e Agricoltura. Secondo i consiglieri di opposizione è necessario convocare tutti i soggetti competenti per cercare possibili soluzioni. Noi abbiamo fatto una richiesta ormai da tempo alla maggioranza, specificatamente al presidente della commissione Ambiente, perché crediamo che gestire la fauna selvatica su questo territorio sia una cosa molto complicata e molto complessa, e quindi deve essere affrontata proprio in quest'ottica di complessità. Abbiamo pertanto chiesto un'audizione con tutti i soggetti che a vario titolo hanno competenza nella gestione della fauna selvatica. Quindi parliamo di Regione Lazio, parliamo della ASL, parliamo degli ambiti territoriali, parliamo di ascoltare le confederazioni agricole, perché sappiamo che i danni da fauna selvatica in ambito agricolo sono molto importanti. Pertanto tanti enti, tante competenze, dobbiamo fare un tavolo in cui affrontare insieme e cercare gli strumenti che sono utili. Perché non basta affidare e delegare ai comuni la gestione della fauna selvatica o comunque di materie così importanti e complesse, ma bisogna dotare anche i comuni degli strumenti utili per poterlo fare, strumenti finanziari ma anche strumenti operativi. Ricordo che a tal riguardo c'è una legge regionale ormai varata da tanti anni che prevedeva un regolamento per decidere le linee guida e le modalità attraverso cui i comuni avrebbero dovuto gestire la fauna selvatica. Questo regolamento ancora non è stato redatto, pertanto anche questo è un tema che in commissione potrebbe essere affrontato.